salve a tutti ragazzi bentornati su go games oggi andremo a vedere dove è posizionata un'altra galera eterna qui a liurnia la terza siamo nell'osservatorio reale questa grazia la sbloccherete dopo aver affrontato il boss del maniero cariano floretta quindi per arrivare qui dovete seguire tutta questa strada arrivare su entrare qui fare tutto il maniero e arrivare fino al boss e da qui vi faccio vedere la strada per arrivare alla galera che è questa qui galera eterna della tomba reale ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Sono abbastanza lente quindi sono facilmente schivabili e alla fine della boss fight vi dropperà Meteorite che è la stregoneria che usa lui contro di voi Detto questo grazie mille a tutti per averci seguito e alla prossima Grazie a tutti